È arrivato che aveva un anno e diciamo che ci eravamo ormai rassegnati che Dexter avrebbe trascorso tutta la sua vita qui al canile. Invece un giorno è arrivata Sabrina che cercava un cane, un altro cane da immettere nel suo nucleo familiare e dopo un giro all'interno del canile l'ultimo cane che ha visto è stato Dexter ed è stato amore a prima vista. Dopo otto anni trascorsi nel box del canile di Arezzo per Dexter, un meticcio di taglia media, è finalmente iniziata una nuova vita, quella al fianco della sua nuova famiglia. Io generalmente li prendo così, cerco sempre, non il cane facilmente adottabile, ho sempre fatto così. E poi lui quando lo vedi non puoi lasciarlo lì, io poi volevo fare altri giri, sono venuta prima qua. Però poi con mia figlia continuavamo a dire è inutile vederne altri, ormai abbiamo centrato il barilotto in testa e abbiamo dovuto tornare a prenderli. Una bellissima storia e un'adozione dà il cuore che ha cambiato decisamente la vita sia di Dexter che della sua nuova famiglia. Lui mi sembra felice, ha la sua cuccia, sta al caldo perché gli piace stare vicino alla stufa e poi ha anche compagnia. Poi io ho un ristorante e lui viene spesso al ristorante, è un cane da ristorante. Che senso ha andare o a comprarli o a prendere i cuccioli quando ci sono questi animali che hanno molto di più di un cucciolo. Sì, vabbè, lo cresci tu, però magari poi hai viziato, non ha le stesse caratteristiche che ha un cane così. Non è possibile perché è un cane che ha sofferto oppure che non ha mai avuto una casa, quando tu l'hai in casa lui ti è riconoscente. Quindi tutto quello che hai, ti dà molto più di un altro cane.